Una cosa inaspettata sta facendo discutere la città della Contea. La storia è quasi buffa, ma non troppa, vista il periodo emergenziale, è successa da Emanuele Cavallo, precedentemente coordinatore di Fratelli d'Italia, e oggi vittima di uno scherzo quasi sanitario, se scherzo si può definire. Al signor Cavallo è arrivato esito negativo nonostante non avesse mai fatto tampone. E lui stesso a dichiarare quanto. Il messaggio mi è arrivato sul cellulare con la firma del sindaco Ignazio Abate, ma io non ho mai fatto screening. Non so nemmeno dove si trovi il posto per poterlo effettuare. Emanuele Cavallo, oltre ad aver subito informato il sindaco, ha scritto un post su Facebook chiedendosi e chiedendo ai suoi tenti come si stanno svolgendo queste operazioni sanitarie. La questione ha sicuramente sollevato dei dubbi, dubbi che però erano stati riscontrati da diversi utenti un paio di settimane fa, dove sempre tramite un post lamentavano di lettere con esito invece quella volta positivo, senza mai aver effettuato il tampone. Su come le autorità abbiano avuto il numero di cavallo è ancora tutto un dire. Potrebbero essere tante le supposizioni. Una di queste è se fosse un omonimo e fosse stato confuso per via dell'indirizzo stradale, un mistero che sarà sicuramente risolto, in quanto il primo cittadino ha promesso di indagare al più presto.